Nell'emiciclo del Parlamento spagnolo prevale il colore blu del Partito Popolare, ma la tavolozza politica non va oltre la metà dell'aula. Con un incasso di 170 seggi, la destra, cioè PP, UPN e l'estrema destra di Vox, sono sotto di una manciata di seggi rispetto alla maggioranza assoluta. Il Partito Socialista e l'estrema sinistra incassano solo 153 seggi, ma hanno uno spettro di consensi più ampio e potrebbero superare la soglia dei 175 seggi. Il premier uscente, Pedro Sanchez, esce paradossalmente rafforzato. Il suo partito guadagna due seggi e ha messo a tacere le voci che chiedevano una nuova leadership. Sanchez ha davanti ardui negoziati per cercare di ricostruire un governo definito Frankenstein. Il destino di Sanchez potrebbe essere nelle mani del partito indipendentista catalano di Carl Puigdemont, che in precedenza aveva dichiarato di non volerlo sostenere. Puigdemont è latitante dalla giustizia iberica dall'avventura indipendentista del 2017. Questo lunedì la Procura della Repubblica ha riattivato il mandato di arresto nei suoi confronti. Insomma, l'accordo è molto difficile. In molti vedono nuove elezioni alle porte, a meno che la destra non si avventuri in una soluzione di compromesso. Grazie. 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 Grazie.